Il mercato di primavera non si può fare. È il succo di quello che l'assessorato al commercio del comune di Pescara ha riferito a Confesercenti, che aveva chiesto di allestire in piazza Salotto dal 24 aprile al 7 maggio la seconda edizione del mercato. La notizia dell'annullamento a presa ieri ha innescato un'accesa polemica. Sentiamo Marina Dolci di Confesercenti e l'assessore Alfredo Cremonese. È l'ennesima volta che il nostro assessore al commercio, Cremonese, ci risponde con un no. Già da ottobre scorso abbiamo parlato con lui, tramite il mio direttore Tauci, di questa iniziativa. Sappiamo anche della piantumazione che ci sarà su piazza Salotto, ma di tutte queste novità e questi aggiornamenti sui lavori di Pescara eravamo già a conoscenza, ma anche loro, tant'è che noi abbiamo fatto anche una procedura di scia, di richiesta quindi di occupazione solo pubblico, dando la spiegazione di cosa andavamo a mettere, che era food e non food, la metratura. Quindi c'è stata già una procedura che però è andata avanti verbalmente, fino ad arrivare a un accordo anche con Ecomob, che ci sarebbe stata qualche giorno prima della nostra iniziativa, proprio sul montaggio e smontaggio di ciò che andavamo a mettere nella piazza, proprio per non dare fastidi ed essere pronti sul mercatino di primavera. Il mercatino non si è potuto fare perché in quei giorni chiaramente partiranno dei lavori importanti per il rifacimento della piazza. Abbiamo stanziato oltre 100.000 euro per le nuove piantumazioni. Tengo a sottolineare che la Presidente Marina Dolci non mi ha mai contattato telefonicamente, mentre il Patriarca mi ha contattato telefonicamente e venerdì mi ha ringraziato per la mia consueta disponibilità. La conoscenza di questo progetto, che è stato depositato da Confesercenti, è venuta alla mia attenzione circa una ventina di giorni fa. Mi sono sentito al telefono col dottor Tauci e quando abbiamo analizzato, abbiamo visto che c'erano oltre 15 giorni un'occupazione importante per la piazza, abbiamo verificato l'incompatibilità di questo progetto con i lavori che si stanno effettuando. Possibilità di localizzare il mercato altrove, i tempi seppur stretti, forse ci sarebbero. Anche qui però versioni diverse. Alternative proponeteci. Certo, gli imprenditori che vengono per il mercato vogliono delle garanzie di presenza sulla città. Noi vi ricordiamo che già per il mercato di Natale sono arrivati quasi 30.000 persone, 30.000 cittadini che hanno visto Pescara e l'hanno fatta vivere. Quindi anche gli operatori che hanno determinati costi vogliono un ritorno di persone, però se ne può parlare. Patriarchia mi ha segnalato la possibilità di farlo sulla riviera. Nella giornata di venerdì ho dato ampia disponibilità chiedendo la possibilità di verificare nella giornata di lunedì, cioè ieri, e poi ho appreso dalla stampa che c'era stata la rinuncia da parte di Confesercenti.